Sono stati liberati 13 membri della missione delle Nazioni Unite tenuti in ostaggio nella Repubblica Democratica del Congo da un gruppo di ribelli del Sud Sudan. La notizia è stata confermata da una fonte ONU locale. I ribelli, un centinaio di persone che non sarebbero armate, fanno parte di circa 530 militanti che si trovavano nella base di Muniji, la periferia di Goma, dopo essere fuggiti dal Sud Sudan. La maggior parte di loro sarebbero combattenti fedeli all'ex vicepresidente Riek Machar.